Se si intende anche CiaGPT te lo devo mettere al primo posto Ah, giusto, giusto, è vero, è vero, non ci avevo pensato Ormai senza CiaGPT siamo morti CiaGPT, ti giochi così al primo posto? Sì, 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 ad oggi sì Va bene, va bene Siamo qui al secondo giorno del Festival Universitario con Yaki Dale che ci ha appena parlato un po' del suo percorso all'interno del mondo della tecnologia ma oggi vogliamo testarlo con il nostro format Blind Ranking Ti dirò 10 dispositivi elettronici e tu me li classificherai Dall'uno quello che ti piace di più al decimo quello che ti piace di meno ma non soltanto per gusti e anche per utilità, per utilizzo che ne fai quotidianamente Partiamo col primo, visore di realtà aumentata Visore di realtà aumentata, adesso o in futuro però? Facciamo adesso, all'oggi Io te li metto comunque al terzo posto Ok, quindi alto però ci teniamo alle prime due posizioni Sì, 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 teniamole Va bene, poi abbiamo smartwatch Smartwatch quinto Ok, va bene, va bene Poi abbiamo lettore mp3 Non lo mettiamo ultimo solo per il legame sentimentale Ok, ok, ci sta, ci sta Quindi non ho posto Siamo cresciuti insieme, non ho posto, perfetto Poi abbiamo smartglasses Sai che te li metto al secondo posto? Ah, in alto, è inaspettato Più dei visori Secondo me hanno più potenzialità Anche se siamo ancora lontani Ok, ok, quindi non siamo ancora arrivati al top No, no, no Siamo all'inizio Poi abbiamo il doppio schermo Inteso come lavorare con più schermi Multitasking Esatto, esatto Secondo me è sopravvalutato Sono d'accordo, questo è un po' per l'opinione Te lo metto all'ottavo posto Ok, ok Poi abbiamo assistente intelligente Ah Non so se tu ce l'hai Ne hai uno, lo usi Assistente intelligente Ma si intendono anche Cioè non solo vocale Se si intende anche cia-GPT Te lo devo mettere al primo posto Ah, giusto, giusto, è vero, è vero Non ci avevo pensato Ormai senza cia-GPT siamo morti Ti giochi così al primo posto? Sì, sì, ad oggi sì Va bene, va bene, ci sta Poi abbiamo smartphone pieghevole Vediamo se hai una propria opinione Cosa c'è, il settimo è libero? Eh sì, sì, sì Eh, no, no Ci sta Non si merita di più Pensiamo più in basso Però dai, ok, ci sta Powerbank, caricatori portatili Eh, quelli sono fondamentali Ma non sono questa innovazione Quindi Cosa c'è, il sesto posto? Sì Vai, sesto Ok, perfetto Poi abbiamo i frigoriferi intelligenti Cioè, c'è chi svolta la vita E chi Questi ci stanno Mi piacciono Se fosse libero il primo posto Di mettere il primo posto Sotto il podio Va bene, va bene Sotto il podio Perfetto E l'ultimo tablet Di ogni tipo? Ah, i tablet sono finiti gli ultimi quindi Posso dire che però Sì Voglio fare lo scambio? No, no, no Perché ad oggi comunque abbiamo i telefoni già grandi Ok E poi abbiamo i computer Sono d'accordo E i tablet non sono ancora asterisco in grado di Di sostituire il computer Se non per particolari esigenze Per quello che faccio io No Vedremo, grazie mille Grazie mille